Cześć Polska! Dzisiaj tiramisù z malinami. Co będzie potrzebne? Savoilliardi, pietana, mleko, maline, ser mascarpone, zuccher pudro i zuccher. Od czego zaczynamy Anna? Allora, cominciamo con il cucinare i lamponi, però prima ne lasciamo un po per la guarnizione finale. Zostawimy sobie 10 malin, żeby później do przebrania było. Dobra, a resztę smażymy z cukrem. Jeszcze jedna sprawa, możemy sobie popruszyć troszkę galaretką malinową, nasze maline później, jak się fajnie zastygnie, będzie żel. No i adesso montiamo mascarpone, a my montujemy też mascarpone. Ecco, Mario, mascarpone. Okej. Mmm, mixer. Adesso mettiamo lo zucchero a velo, Mario. Teraz śmietana, ubijamy śmietanę. Teraz zmieniamy miski i ubijamy śmietanę trzydziestkę. zuccheramąա Cerchiamo un po' di zucchero a velo, basta Mario, adesso uniamo i due composti, lo mettiamo in mascarpone, abbiamo detto che questo è un tiramisu light, nel senso che non utilizziamo l'uovo, che in genere va messo crudo nell'impasto. No, abbiamo fatto un tiramisu light, non lo mettiamo in mascarpone, senza laktozza, abbiamo fatto un creme molto light. No e siamo, questo è molto bello, che facciamo? Ora prendiamo il latte e lo versiamo nella ciotola. Do misecce. Ulamiamo il biskop Savoyard. Si. Układiamo il mleco, se vuoi chiedere di alcoho, per esempio liquore, noi lo facciamo, perché ci sono anche i bambini. Układiamo i bambini, poi. Adesso Mario mettiamo la strada di crema. Teraz creme. Priccate bene le biskopi. Nastepnie maline. Maline. Le biskopi. Adesso mettiamo di nuovo biskopi. Adesso mettiamo di nuovo biskopi. Od nuovo biskopi. Cioè, lo mettiamo l'ultimo biskop, do mlechi go. Così. Piano nel bicchiere. Poi di nuovo la crema. Crema. Voi magari possono anche fare in una telia, no? No abbiamo userto monodosy, che abbiamo deciso di fare in una scola. Ma è più bello esteticamente, ma è più pratico per servire. Chiudiamo mettendo due lamponi interi come guarnizione. E poi cuchier puder. Il nostro dolce è ultimato. Adesso mettiamo la guarnizione di lamponi, un po' di zucchero a vero, e poi in frigorifero per un paio d'ore. E poi, prima di servire, cuchier puder. Ma, ovviamente, proviamo ad ora, quindi possiamo dare. Buongiorno, no? Sì, sempre bello. Cześć Polskia, do zobaczenia. Cześć Polskia, la prossima.